Sì, buonasera e benvenuti allo studio di Telefriuli al punto della settimana sulla politica regionale. La situazione della politica è partita in completa evoluzione, dal dualismo nel campo del centro-destra ha un po' di confronto, un dibattito abbastanza acceso anche nel centro-sinistra. Forse per capire cosa succede per esempio nell'ambito del PD, che è un po' l'architrave centrale del centro-sinistra ma anche del sistema di governo in questo momento nella regione, ospite da noi è il Presidente del Consiglio regionale, Franco Iacop. Benvenuto Presidente, bentornato nei nostri studi. Allora, lei è un autorevole esponente non solo istituzionale ma anche del PD, no? Qualcuno si chiede se forse magari in casa PD, Rosato, ha fretta di mettere in campo le candidature perché mi pare che anche la situazione politica all'interno sta cambiando, insomma, no? Da voi. Beh, da noi c'è stato il congresso, c'è stata la rielezione di Matteo Renzi a segretario politico e quindi una nazione che sta svolgendo come segreteria politica, non senza qualche spunto di dibattito se vogliamo anche forte all'interno e con questa purtroppo uscita di alcuni amici e compagni che nel PD hanno percorso, del PD hanno percorso proprio l'inizio, la fase della formazione ha ricoperto le cariche importanti che hanno deciso di uscire dal partito e di fondare questa nuova forza a sinistra. Quindi un dibattito importante, Rosato, il capogruppo alla Camera, quindi una figura essenzialmente di rilievo e di riferimento, qui in Regione da anni, insomma, è personaggio politicamente attivo ma, insomma, credo che lui tenda a svolgere fino in fondo il compito di capogruppo e quindi guidare un gruppo alla Camera che ha una responsabilità, quella della proposta e quella dello svolgimento dei temi. Però sembra un po' l'uomo forte anche qui in Regione, no? Perché da un'intervista tempo fa ha dato, non dico l'ultimato, ma dice alla nostra governatrice bisogna in qualche modo o che tu ritorni a cavalcare la candidatura o tu devi scegliere ma mi pare che sui nomi, oltre alla governatrice, c'è anche Bolzonello, ma c'è anche il suo nome per cui state un po' ragionando o il dopo è già assegnato? Ma io credo che un'intervista appunto di qualche tempo fa, Ettore Rosato, ha posto ovviamente alcune questioni ha posto la questione, direi, principale nei termini della candidatura, cioè il fatto che la naturale candidata succeda a se stessa sia Deborah Seracchiani, ha guidato questa regione per cinque anni, con piglio, con determinazione, con forza, portando su di sé ovviamente la responsabilità della guida del governo regionale. Oggi se Deborah Seracchiani anche legittimamente immaginasse un futuro non più in regione ma un impegno diretto a questo punto esclusivo nella politica nazionale, credo che passata l'estate dovrebbe lei ufficializzare questo percorso e dar l'opportunità che il partito svolga quel necessario confronto interno per individuare la candidatura alla presidenza della regione e avviare anche un percorso di convergenza possibile con altre forze politiche che compongono oggi la maggioranza ma anche altre che sono oggi nello scenario e sui quali si può sicuramente avviare un percorso. Ecco però lei fa parte dell'area Franceschini che è l'area in qualche modo che ha la Golden Share in qualche momento nel partito, l'ha dimostrato anche nelle ultime battute elettorali e qui mi pare che voi la fate un po' non dico da padroni ma comunque giocate la pari con chi non proviene da quell'area, quindi ci potrebbe essere qualche colpo di scena? Ma io con l'elezione di Renzi al segretario politico con il quasi 70% dei voti ovviamente parlare di correnti e di aree mi sembra non attinente a quello che è la forma e la vocazione del partito democratico, io vengo da un'amicizia e da un percorso politico comune con Dario Franceschini nel quale stimo e apprezzo il suo agire sia come ministro sia come politico e Dario ha in questo momento anche posto se vogliamo alcuni punti al segretario rispetto alla necessità di condividere alcuni momenti di riflessione più ampia, anche alcune opportunità di dialogo con forze politiche, con soggetti che stanno attorno al partito democratico. Ma diciamo che direte la vostra, ecco. Beh insomma siamo presenti e nel dibattito non siamo persone che si ritirano dal dibattito. Bene, invece andiamo sull'ambito istituzionale, no? In questi momenti dove le riforme vengono un po' contestate, dove in qualche modo le UTI sono un po' sempre all'ordine del giorno, dove la riforma sanitaria scontenta e contenta, c'è anche il problema di Sapada, no? Dove i friulani vogliono avere Sapada all'interno della regione e anche Sapada vuole entrare all'interno della regione. Succede che tempo fa, qualche giorno fa, Sonego, il senatore dell'area di Pordenone dice attenzione se Sapada entra con noi la specialità potrebbe essere a rischio. Ecco questo è un allarme, un segnale interno o è qualcosa di più concreto? Ma io non comprendo da dove l'amico senatore, anche se devo dire che adesso è uno dei senatori che è uscito dal PD per confluire in MDP, non capisco da dove ha trovato questa interpretazione, nel senso che Sapada è una volontà della comunità di Sapada, chiara, forte, determinata da anni, riconfermata con un referendum che ha quasi assoluta totalità, all'oltre del 90% ha chiesto il passaggio a Venezia Giulia, l'antesi tra l'altro sostenuto da anni. Che pare, scusi, che pare sia un po' un ping pong all'interno del Partito Democratico o comunque di quell'area, perché mi pare che Bressa è quello che in qualche modo stoppa, stop e go. Sì, però vorrei che questo ci fosse chiarezza su questo presunto ping pong interno. Il vero voltafaccia è il voltafaccia di Zaia e del Consiglio regionale del Veneto, perché noi abbiamo attuato una procedura, Sapada ha fatto quello che doveva fare, il referendum, il referendum partecipato, valido, sottoposto ai due consigli regionali, Friuli Venezia Giulia Veneto approvato da entrambi i consigli regionali e quindi con una precisa responsabilità politica del Veneto che approvando… Lei pensa che dopo le ferie qualcosa succederà? Ma io credo che o succede oppure andando a termine della legislatura, quello che è il disegno di legge che è fermo al Senato ovviamente verrà accantonato, dovremo ripartire da capo dando una direi immagine negativa del Parlamento che non coglie lo spirito di autodeterminazione Anche questi aspetti molto importanti delle comunità, no? Sì, delle comunità come dico, però ecco vorrei riferire il fatto, insomma mi sembra che qui ci sia stato un cambio di posizione del Veneto, di Zaia in particolare, che prima quando il suo partito era portatore assoluto dell'autodeterminazione e in qualche modo ha condiviso il risultato di Sapada. Oggi invece il nome del grande Veneto, della grande autonomia veneta, del referendum Veneto sull'autonomia che poi di fatto è un referendum che chiede un articolo dell'accusazione che già esiste e che si può ovviamente già fare in questo modo, spinge un dibattito politico su un altro tema, il dibattito nel quale è entrato e non poteva essere diversamente anche il PD del Veneto. Quindi in questo senso il periodo democratico del Veneto è nel dibattito. Se le cose fossero andate come dovevano andare, confermando i pronunciamenti che hanno stati assunti, credo che Sapada oggi sarebbe già in fronte. Facendo un breve escursus di questi quasi cinque anni ormai di mandato, abbiamo il problema della Camera di Commercio, abbiamo la sanità, abbiamo l'Uti, abbiamo anche la questione della legge elettorale che non si riesce in qualche modo a portarla a casa. Che cosa è successo? Ci faccio un piccolo escursus e un piccolo focus sulla legge elettorale? La legge elettorale, per come sanno sicuramente tutti, è una legge che ha una particolare procedura per essere approvata, cioè richiede la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, anzi preferibilmente richiederebbe i due terzi dell'Assemblea perché al di sotto di quella soglia è proponibile in forma più semplificata addirittura un referendum popolare come tra l'altro ci fu nel 2002. Quindi legge elettorale è stata una legge che non ha trovato consenso, condivisione nelle sue varie proposte in commissione, è stata portata in aula, il Partito Democratico si è impegnato per la parte di voti che aveva a disposizione nel produrre una proposta all'aula che vedesse sostanzialmente definita la questione della doppia preferenza di genere, cioè il fatto che... Ma sono mancati un po' i voti d'aria mi pare? Sono mancati, ci sono stati 23 voti a favore che sono esclusivamente quelli della maggioranza sapendo benissimo che nella maggioranza ci sono due figure, quella del consigliere Travanuto e il consigliere Pustetto che hanno fatto scelte diverse ormai rispetto all'appartenenza politica delle forze politiche classiche della maggioranza e che avevano espresso un loro dissenso già da tempo, non una dissociazione dalla maggioranza ma un dissenso su questa legge. Mancava poi il consigliere Marsilio che era fuori sede e quindi è chiaro che i voti non c'erano, i voti c'erano per produrre il testo, approvare il testo fino alla sua Insomma c'è stata una coincidenza negativa che ha portato... Il voto finale io mi sarei atteso che se l'opposizione valutava positivamente, così come nel dibattito era emerso, le quattro sostanzialmente innovazioni da proporre con la legge, forse un voto tecnico poteva anche essere assicurato per superare la soglia dei 25 voti favorevoli che era il minimo per poter far sì che la legge diventasse legge regionale. Siamo un po' in chiusura e ho ancora due domandine da farle, per esempio sul suo futuro politico, si parla tanto di Cameron ma si parla anche di Bruxelles, lei potesse scegliere oppure un impegno ancora qui in regione? Beh io sono uomo della regione, dico uomo del territorio sicuramente e quindi l'impegno sul territorio è sempre stato per me un dato importante. Trovo una novità direi significativa se la legge elettorale rimarrà così perché vengono reintrodotte il sistema delle preferenze per l'elezione alle Camere, al Senato in particolare, non ci sono seggi preassegnati, c'è di fatto una investitura che viene dal territorio attraverso... Qui la corsa è aperta e quindi anche il confronto... Quindi è una corsa aperta ma anche una corsa che raccoglie la rappresentatività, devo dire dopo 15 anni di regione anche un percorso a Parlamento, un'esperienza parlamentare potrebbe essere... Non le dispiacerebbe insomma... Se dovessi poter scegliere in assoluto, citavo la mia esperienza in Europa eccetera, beh certo il Parlamento europeo mi piacerebbe farlo ma non è materia di questo, non è tempo di elezioni per il Parlamento europeo, magari quello lo prenderemo in considerazione quando verrà, abbiamo una brava europarlamentare che è Isabella De Monte e per i meccanismi elettorali già questo è un dato importante per questa regione, avere un parlamentare, un europarlamentare. Senta, chi butterebbe giù della torre nel PD e fuori il PD? Beh, se mi fa una proposta o devo scegliere? No, scegliere lei. Beh, butterei giù dalla torre, si è già buttato in parte, certamente da lei ma si è già buttato e confermerei il fatto di spingerlo ulteriormente e magari volesse tornare anche lontano insomma. Lonterei lontano perché mi sembra un elemento distruttivo più che costruttivo all'interno di un partito. Per quanto riguarda ovviamente il dato, io sono una persona che di solito si è sempre confrontata e ha sempre cercato una relazione, nel dialogo, la risoluzione anche dei problemi senza scaraventare nessuno dalle torri. Bene, allora con queste affermazioni del Presidente del Consiglio regionale che io ringrazio per la sua disponibilità al confronto e anche le chiacchierate che di solito passa a trovarci qui per un resumen insomma di fine mandato e lo ringrazio ancora e magari le auguro anche buona vacanza, dovrà fare anche qualche giornata di fare anche lei. Qualche giorno, chiuse tutte le attività nazionali, europee, regionali, certamente qualche giorno prenderemo, prima di riprendere un periodo che sarà impegnativo e ci porterà... Ecco, per rush finale insomma. Ecco, allora rush finale l'abbiamo anche noi e passalo al telegiornale. Grazie a tutti.